Ragazzi, prima che inizi il video vi devo dire una cosa, seguitemi tutti su Twitch Raga, su Twitch ogni giorno faremo live, sfilate, serve privati Raga, per favore, fatelo perché se non mi vedete più in live su YouTube c'è un motivo Se volete che tornino le live, dovete seguirmi su Twitch Vi lascio il link in descrizione di Twitch, raga, è importantissimo Inoltre, chi non si è iscritto a Twitch e ha partecipato al contest Appunto, chi non ha fatto, non varrà, perché raga, dovete essere iscritti al canale con la campanella Per essere ammessi nel contest, ovviamente su Twitch Quindi raga, per favore, iscrivetevi tutti a Twitch Anche oggi pomeriggio ci sarà una live Quindi raga, attivate la campanella, importantissimo, seguitemi su Twitch Oggi raga, andremo a fare la solo partita con la lettera P Useremo solo cose con la lettera P e poi siamo andati a Parco Pacifico Quindi raga, possiamo usare pistole, pompa e altre cose, pozioni Quindi mi raccomando, lasciate un bel like al video Iscrivetevi al canale con la campanella Carlo, a me ci sono due persone Non ho armi con più Ah, c'è Carlo, è vero Scusate È il problema che... Anch'io non ho armi Carlo, sono morto Finita Non puoi cercare di scappare Ho il piccone, 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 uno, due, tre, quattro, cinque, ho fatto uno Deve aiutarmi perché c'è l'altro È il problema è non armi, vengo Non c'è niente, non c'è niente Non hai armi coppì Dobbiamo picconarlo Picconarlo È qua da me Carlo Dieci, ah, sono morto Prendi la scheda e scappa Scappa, te vai, tendo un'altra parte Non penso, però Raga, salvataggio soresco avvenuto L'unica chance è trovare una canna da pesca E prendere un po' di pure Pesci Di pesci Oh, solo un traiette in questa partita Eh, se vedo che c'è gente a parco ti vado a arrestare a... Ah, si Ok Sì Eh, detto c'è spuglio Scappa, scappa L'ho sentito, scappa Motonna Scappa, non guardare dietro, vattene Dove devi andare ora? Ah, si Ma io posso Oh Pistola Pistola e pozione Purtroppo è blu Raga, pistola e pozione e scudo Raga È il problema che io c'ho poca vita, mi do pure spiegare Uh, cane da pesca Perché ti giri? Eh, che è? C'è? L'hai visto? Ho sentito qualcuno, eh? Vabbè No, va, andava bene Eh, infatti Sì No Eh, bravo, hai capito No Vabbè C'è l'altro punto, c'è l'altro punto Carlo Per pescare C'è l'altro punto buono Eh Al centro Uh Dai Ti prego Ti prego Gioco un po' Vabbè Vabbè Va bene lo stesso Raga, i pesci valgono Dove pompa? E scappiamo Mi sa che ho visto una pistola verde No Per me è di che te non l'ho proprio Aspetta, aspetta Carlo Che ho uno da pesca Ho trovato Ok Scappiamo senza farci Mi puoi dare due colpi Colpi pompa Ne ho due Aspetta Andiamo in safe E te li do Siamo in safe Io sono in safe Guardi in safe Vieni da me Oh, pozione e scudo Pozione, raga Eh, tieni i scildini Tieni i scildini Raga, sta partita Sta andando abbastanza bene Possiamo dire Col salvataggio, sora Hai con materiali Aspetta Eh, sì No Più o meno 518, 90 e 30 Vabbè, allora no Fatti questi hamburger Ma se tu le stai facendo tu E i pomodoro Lancia razzo Ma hai niente Puoi trovare pure dei sinonimi Se ce la fai Sì, te ne do due Ma come tu nei 12 Io ne ho quattro O nei 10 Eh, ma io tattico Dammi ne ho uno E te ne dati già due Dammi ne ho uno E ce ne ho due Ma tu quanti Ah, ma Ora hai due colcibompa tu Ma quanti ne hai, scusa C'è il tantico C'è il tantico Ah, e allora no Eh, allora no La vostra parte Non ci vuole niente da arrivare Pesce piccolo Andiamo avanti Ma lì che è? Aspetta Pistola blu Andiamo Mi sa di sì Aspetta No, fiocino Che palle Eh, io sto pescando in un punto Ho un pesce Un pesce Sì, sì Deve averci i scendini però No, no, non la devi fare La canada pesca Sì E' la safe è veloce Flopper Chilo per indagare Ce ne ho già tre Ce ne ho già tre Ehm, tre il masso non so Sicuro Di colpi appantano Eccoli, eccoli Ne voglio un po' Quanti ne hai? Due Eh, dieci Ma mi prendi in giro? Non ne avevi due Eh, più otto del tattico Eh, ho comunque su dieci Che c'entra? Ah, comunque ragazzi Siamo comunque a pantano palpitante Sempre con l'AP Quindi raga Tutto concide Come nel tattico Perché? C'ha più colpi e C'è Può sparare di più Carlo mi ha convinto Ma che sono sti cosi? Funghi? Sono diversi, vabbè Eh, è tipo una slurp Mi sembra Attento, attento Non sparare a caso ora Perché ora è finita Eh, c'è gente qua Eh, lo so, lo so Non so cosa fare Mi sa di sì Ma aspetta però lì che è Aspetta Ma io so che lì che è Eh, li facciamo finiti Eh, hanno finito di fare Tavo Non lo so, mi sa No, non ce l'ho visto No, non ce l'ho visto No, fermo, fermo Aspetta, mi sa Lottiamo, lottiamolo Carlo No, 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 no Vabbè, no, no, no Ma che sta facendo? Ah, c'è gente Ma Thompson, no Thompson Pistola a tamburo Pistola Raga, pistola a tamburo Da me Hittato e squaglia Squagliato Carlo Dobbiamo hittare ormai Ora dobbiamo fai hittare 12 Io l'ho più da lontano col pompa 23 8 Bravo Carlo Col PR ne ho 15 Carlo col PR Tieni Sì, ce ne ho 640 Ok Carlo, calmo, 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 calmo Eh, colpi pompo Tieni, tieni Va bene Tieni Vai, scappa in safe Corriamo, corriamo Ok, ci siamo Carlo, ci siamo Carlo, mi devi dare Mi devi dare Il pesce che hai trovato prima Pozione, pozione, pozione Ok, me lo dammi Lascia, lascia, lascia Carlo, ti serve un mazzo Per caso Eh, c'è pure il pesce Quello là Eh, ok Aspetta Aspetta Eh, mi sa che perdo vita Eh, c'è il pesce C'è il pesce Ok, l'ho preso L'ho preso Non mi serve il pesce Ascoltami Carlo Mi devi dare il pesce Che hai trovato tu Quello blu Quello epico, volevo dire Quello epico Quello epico Ok, aspetta Tieni, tieni, tieni qua Tieni, fermo Ok Raga, questa partita epica Anche se ci sono poche kill Non mi interessa Dobbiamo farcelo Ma raga, la pistola a tamburo Quindi Eh, saliamo sulla montagna Sì, vabbè Eh, io c'ho 235 150 Tieni, tieni, tieni Saliamo Vabbè, c'è il viale Vabbè Il viale C'è, forse ci stanno costruzioni là Carro, non possiamo perderlo Dove è su? Eh, siamo in ground Ok, là Ci hanno visto Ci hanno visto Ci hanno visto Ok, intanto siamo in safe Siamo in safe Calmo Ok, raga Siamo in ground E siamo in safe Eh, cosa Eh, jump Arrivano 30, 40 Vabbè, anche se non te lo lascio Fatto Da me Carlo Vieni Cazzo, stai attento Cazzo, stai attento Carlo Non puoi cercare Cosa ti un pesce? Sì No, no Sì Mi faccio un attimo Il pesce C'è Lancerazzi Attento Raga, 2v1 Io lo faccio cadere Fallo, fallo Vabbè, non ho troppe costruzioni Mi sa che se non è là Ha sbagliato Ma sei un attenzio? Dove sta? Goto! Abbiamo vinto Sì Raga, pistola a tamburo Salva la partita Comunque mi raccomando Iscrivetevi al canale con la campanella Carlo Sona ha iniziato col salvataggio Ed è stato il leader Mi raccomando Iscrivetevi al canale con la campanella E noi ci vediamo al prossimo video Bella raga Ciao Ciao Ciao